Allora ciao Rob, Hold But Gold. Quindi vedi come facciamo? Andiamo nei posti, vediamo. Per esempio adesso siamo al supermercato, vediamo tanti prodotti interessanti. Che cos'è questo? Sì, superinseticida, praticamente qua c'è il problema delle blatte. E poi abbiamo i prodotti di Natale. Quindi grazie a Rob questi sono i video, ho capito, che piace anche a lei. In Asia abbiamo un buon supermercato, molto buon color. Capito Rob. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.